Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di Affitti Brevi in 30 giorni, la prima ed unica serie che ti insegna ad entrare nel business degli affitti brevi qua su YouTube in 30 giorni. Se non mi conosci mi chiamo Ludovico Cianchetta Vasquez, sono il fondatore di B&B Academy, che è l'accademia più grande d'Europa per chiunque voglia iniziare il business degli affitti brevi. Abbiamo creato corsi in diverse lingue del mondo e siamo appunto i più grandi in Europa. Quest'oggi voglio parlare di un tema molto delicato, perché quando le persone vogliono avvicinarsi a questo business la prima cosa che fanno, e concettualmente anche giusto, è cercare di iscriversi a delle community di vario genere, spesso gratuite, per captare un po' di informazioni, per imparare, per chiedere aiuto, per chiedere supporto. Il problema qual è? Che spesso queste community sono tossiche. Sono community create da arrangiati, persone che sono entrate nel business dell'affitto breve per gioco, perché hanno ereditato la casa della nonna, perché hanno sentito dire che era una cosa funzionale, ma che purtroppo non avendo esperienze, non avendo formazione, non avendo neanche magari il giusto background a livello di mindset, quindi proprio la mentalità imprenditoriale, magari trovano la casa leggermente sporca e scrivono questi post come se li avessero distrutto casa, piuttosto che hanno un inconveniente e scrivono questi papiri di tragedie. Magari persone che lavoravano in maniera illegale non pagavano le tasse e adesso che è stata inserita, ad esempio, la riscossione automatica delle tasse che noi che lavoriamo in maniera seria non cambia assolutamente niente, dobbiamo pagarle prima queste tasse, tra l'altro tasse agevolate solo al 21%, dobbiamo pagarle noi, oppure le trattine Airbnb a noi non cambia niente. Invece vedi queste persone che si lamentano e dicono no ma come io così non riesco a sopravvivere? Beh, questa è la prova che ad esempio queste persone che fanno queste tipologie di post prima evadevano le tasse, quindi lavoravano bene perché non pagavano le tasse, mentre noi guadagniamo un sacco di soldi eppure paghiamo anche le tasse. Pensate voi che stupidi che siamo. Però scherzi a parte, queste community purtroppo sono popolate al 99% da gente che questo lavoro non lo sa fare. E quindi quello che può sembrare una genialata, quindi mi scrivo a delle community per imparare, spesso significa ritrovarsi in realtà ad essere demotivati, svantaggiati, e quasi queste persone vi fanno passare la voglia. Sembra che parliamo di due business completamente diversi. Questa non è una lezione, questo video è per lo più un consiglio pratico. La restante parte dei video sono tutte lezioni praticamente, questo è più, diciamo, condividere un'esperienza. Infatti è verso la fine di questa playlist, è una delle ultimissime lezioni che vi voglio dare, ed è quella di non iscrivervi a queste community, o se proprio volete farlo, fatelo guardandole un po' con distanza, perché sembra quasi che parliamo veramente di due business diversi. Se tu entri ad esempio nella community B&B Academy, composta da oltre 4.000 persone, leggi di gente che con grande gioia dice ho acquisito un nuovo immobile, questo mese ho fatto record di guadagni, ho venduto le mie strutture ricettive a centinaia di migliaia di euro, guardate quante recensioni ho ottenuto, sono praticamente tutti super host, quindi tutti vincono questo riconoscimento che dà Airbnb per gli alloggi di qualità. E poi entri in queste community gratuite, purtroppo tossiche, e invece vedi solo gente che si lamenta, gente negativa, gente che dice no, lascia stare, non fare questo lavoro, gente che lo fa anche perché è invidiosa o ha paura della competizione, ha paura che tu gli possa rubare il lavoro. Mentre in B&B Academy abbiamo costruito una community molto sana, dove non c'è questa paura di tossicità, di competizione, anzi, spesso si collabora assieme. E quando fai un posto in questa community, a parte non B&B Academy, dici magari faccio il property manager, iniziano a prenderti per il culo, ti sfottono, ma sì, ma come, ma fammi vedere, ma di cosa stai parlando, ma tornatene a casa tua. Mentre quando in B&B Academy si fa un post di cerco persone con le quali collaborare, tutti ti dicono, ti scrivo, va bene, ottimo, anch'io stavo cercando per collaborare. Quindi un altro discorso è che magari poi in questi gruppi, effettivamente c'è anche gente che guadagna bene con l'affitto breve, ma sono persone che l'hanno fatto con il fai da te, capite? Quindi non hanno magari neanche le competenze corrette. Tantissime volte ho letto delle affermazioni completamente sbagliate fatte all'interno di queste community, come gente che diceva che era obbligatorio avere la partita IVA per fare questo business, quando abbiamo dimostrato per filo e per segno, con leggi alla mano, che non c'è bisogno della partita IVA per fare questo business. Altra gente che in questi gruppi diceva che la sublocazione è illegale, altra gente che dice che c'è bisogno del patentino d'agente immobiliare. Insomma, inesattezze su inesattezze, che dicono o per ignoranza, perché sono loro in primis a non essersi mai formati, oppure perché vogliono depistare le persone per non farli iniziare questo business. Ed è anche lo stesso motivo per il quale vedono di cattivo occhio magari le accademie di formazione come la mia. E dati alla mano, nonostante noi fatturiamo milioni con gli affitti brevi, riescono a dire che non sono nulla di valido. Poi vai a vedere gli annunci di queste persone, sono foto scattate con lo smartphone e con dei titoli veramente illegibili, cioè cose che non si possono vedere. E spesso, ahimè, succede anche che tante persone si iscrivono a B&B Academy e hanno fatto degli errori gravi proprio perché si sono affidati a queste persone. Ma dovete, come dire, fare una considerazione, ovvero come può un qualcosa di essere gratis essere di valore? Nel senso, perché un qualcuno dovrebbe darvi gratis dei consigli, dovrebbe insegnarvi un qualcosa gratuitamente? Se lo fa, probabilmente lo farà male. Mentre al contrario, un'accademia come la nostra, che sì, è a pagamento, ma proprio perché è a pagamento riesce a garantire la miglior qualità, aggiornamenti gratuiti, contratti redatti da avvocati, contratti redatti da commercialisti, riferimenti di legge presi da esperti del settore, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché se proprio volete entrare in questo business, fatelo bene, altrimenti non fatelo, perché rischiate come queste persone, anche per ignoranza, di ritrovarvi ad essere degli evasori fiscali. E tutto ciò alla fine si traduce in una community tossica, composta per lo più da persone che non sanno fare questo business, che dicono che non si guadagna, che si lamentano in continuazione e danno la colpa allo Stato, alle tasse, eccetera, eccetera, eccetera. E spesso dicono anche che poi magari non ricevono prenotazioni. Beh, fatti due domande, se tu non ricevi prenotazioni, e noi di B&B Academy ad esempio ne riceviamo appalate, e talvolta andiamo anche in overbooking. Se avete visto la lezione sulla terminologia, sapete che cosa significa overbooking. Prima di proseguire con delle altre motivazioni, che spero vi faranno desistere dall'iscrivervi a queste community, io mi sono disiscritto da molte di queste, perché veramente sono imbarazzanti, vi ricordo che qua in descrizione trovate dei contenuti gratuiti, ma di valore, perché sono stati creati da noi, per farvi capire se questo business fa il caso vostro. Se fa il caso vostro, dopo avete la possibilità, la facoltà, lo scegliete voi, di iscrivervi a B&B Academy, che è un'accademia a pagamento. Però questo diciamo che è un regalo, che vi voglio fare come orientamento, per farvi capire se questo business fa il caso vostro o meno, così da non farvi perdere tempo, e neanche denaro. Questi contenuti gratuiti li trovate qua in descrizione, non perdeteveli, perché sono di altissimo valore, e proseguiamo con il video. Perché però dall'altra parte, ad esempio, la community B&B Academy è una community di altissimo valore? Beh, perché innanzitutto c'è un commitment, quindi c'è un impegno da parte nostra, ovvero abbiamo investito del denaro, ovviamente vogliamo avere dei risultati a cambio, non ci accontentiamo di lamentarci, no, vogliamo ottenere dei risultati, e siamo anche ben consapevoli che per farlo ci basterà seguire un percorso step by step, certificato e comprovato, nel senso che io so che se faccio queste cose che vengono descritte all'interno del corso e della community, otterrò successo in maniera matematica. Anche perché l'abbiamo dimostrato nelle precedenti lezioni, con anche delle analisi di casi studio, di immobili che vengono pubblicati senza l'opportuna formazione, non basta prendere una casa, scattare 4 foto col telefono, mettere un titolo a caso e buttarla su Airbnb e sperare di ottenere prenotazioni. Potresti anche ottenere prenotazioni, anzi, sicuramente le otterrai, ma non starai creando un business, non starai creando un qualcosa che tu puoi scalare in maniera sistematica, non starai creando un qualcosa che ti renderà ricco, non starai creando un qualcosa che ha il 100% di tasso di occupazione, ma neanche l'80%, perché arriveranno le prenotazioni a basso costo, di gente arrangiata, ma starai lasciando sul tavolo tantissimi soldi che potresti ottenere ottimizzando l'annuncio, ad esempio seguendo il metodo Bambi Academy. Perché ovviamente esistono gli ospiti che sono disposti a pagare 50 euro a notte, ma questi a noi non interessano, e poi ci sono gli ospiti disposti a spendere il triplo, 150, 200, 300 euro a notte, e a parità di immobile, l'applicare il nostro metodo può letteralmente farti guadagnare due o tre volte tanto. Ecco perché abbiamo deciso di creare Bambi Academy, un'accademia con, sì, meno persone ovviamente rispetto a questi gruppi Facebook, con magari 40.000 persone dove poi non ti risponde nessuno. Una community, sì, più piccola, ma a meno sappiamo che chi è dentro, e parliamo comunque di 4.000 persone, è realmente motivato ad ottenere dei risultati, perché ha investito denaro in questa cosa. E infatti poi ogni post all'interno della community ha sempre delle risposte di altissimo valore, sia perché abbiamo dei coach che paghiamo per rispondervi, sia perché risponde in prima persona, sia perché le altre persone sono appunto persone di alto livello all'interno del business. Non stiamo parlando della signora di 70 anni che per gioco si è messa a mettere la casa della sorella ormai defunta su Airbnb. Parliamo di persone che, chi con una casa, chi con 50, chi con 100, comunque qualsiasi cosa fanno, la fanno con un grande impegno. Quindi entrando in Bambi Academy, non solo ad esempio hai formazione di altissimo livello, aggiornata gratuitamente da anni, e che verrà aggiornata negli anni. contratti, file, chi più ne ha più ne metta, tutto certificato in maniera 100% legale. Ma avrai accesso anche appunto a queste community, che sono ben due, Facebook e Telegram, alle quali puoi accedere solo se sei studente, c'è un controllo rigoroso, e oltre a questo anche a degli eventi dal vivo che svolgiamo ogni anno, come gli aperitivi Bambi Academy, ti lascio una foto qua in basso, o altre tipologie di eventi, come le inaugurazioni degli store di affitti brevi che apriamo sempre insieme a persone della nostra community. Quindi parliamo di una community a 360 gradi, dove ottieni sempre risposta, ottieni sempre assistenza, ottieni la miglior formazione, e hai anche eventi dal vivo. Eventi dal vivo dove ancora una volta non ti trovi con la signora Concetta di 70 anni che non ha idea neanche di che cosa sia il CIR, ma con professionisti, con i quali volendo puoi anche collaborare e fare soldi assieme a loro. Ed ecco che entrando in una community come la nostra, ti renderai conto che tutti quelli che si lamentavano, che dicevano che questo business magari non funziona, eccetera, 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 si sbagliavano. Ed il motivo per il quale nella loro testa questo business non funzionava è perché non sapevano fare questo business. Così come ci sono tantissime persone che aprono il ristorante, il bar e falliscono, e persone che invece creano catene intere di ristoranti, tipo all'antico vinaio. Com'è possibile che lui sta aprendo decine di negozi in tutto il mondo e poi ci sono altre persone che falliscono? Perché lui ha studiato, sa come fare questo business e volendo potrebbe insegnarlo agli altri, mentre tante altre persone sono arrangiate e falliscono. Stesso business, persone hanno un grandissimo successo fatturando centinaia di milioni e altre persone falliscono miseramente perdendo tutto il loro denaro. Com'è possibile? Beh, la differenza la fa la strategia e noi la strategia ve la diamo. Ricorda che questi risultati li puoi ottenere solamente con una community a numero chiuso dove le persone sono strettamente selezionate, dove c'è un processo di selezione. Ed ecco perché tra i due regali che ti do c'è anche una consulenza gratuita con il nostro team che ci permette di capire se questo business fa il caso tuo e se sei realmente motivato. Se lo sei, ti daremo l'opportunità di entrare in accademia, altrimenti potrai proseguire con la tua vita. Per ottenere questi bonus gratuiti ti basterà visitare il link che trovi qua in descrizione. Per questo video è tutto, spero che il messaggio sia stato chiaro. Io ti auguro un super in bocca al lupo. Io sono Ludovico Cianchetta Vaskets, fondatore di B&B Academy. Se il video ti è piaciuto metti un bel mi piace ed iscriviti al canale. Ciao! Ciao!